Di nuovo in studio con Passione Politica, stiamo parlando con Dottor Spinelli, il Presidente dell'Associazione Tumori Toscana. Mi volevo chiedere, i vostri rapporti con gli enti pubblici, con la sanità pubblica? Allora, i nostri rapporti con gli enti pubblici sono dei rapporti, direi, personalizzati, perché abbiamo dei rapporti con tanti medici di famiglia, tanti reparti ospedalieri e quando il rapporto è consolidato e quando l'approccio del malato, la nostra associazione, è un approccio attraverso le istituzioni pubbliche, è sicuramente un approccio migliore, perché il malato in qualche modo viene dimesso dall'ospedale e c'è una storia che ci viene raccontata in maniera tecnica dai tecnici e è la stessa cosa per il medico di famiglia. Altre volte i malati ci arrivano perché ci hanno conosciuto, perché hanno visto il salvadanaio dell'associazione o perché hanno visto magari una trasmissione come questa o hanno visto i nostri volontari che raccoglievano i fondi nelle piazze. Direi che i rapporti sono molto buoni, sono anche lì molto cresciuti, di fronte alla diffidenza iniziale che ricordo, ma che grazie alla giovane età probabilmente riuscivo a vincere più facilmente di quello che potrei fare oggi, direi che dopo c'è sostanzialmente, nei confronti dell'associazione, da parte dei medici che lavorano soprattutto nel campo oncologico, della radioterapia, oncologia, o anche gli internisti e i medici di famiglia fondamentali per le cure a casa sono loro, i deputati principali della responsabilità del malato ce l'hanno loro, direi che negli anni si è evoluta, al punto che abbiamo anche dei periodi avuto anche delle convenzioni, ovviamente queste convenzioni avevano uno scopo non tanto economico perché capisce bene che i costi dell'associazione sono talmente tanto elevati che dovremmo avere una convenzione che per coprire i nostri costi sarebbe molto importante, però questo non ci siamo mai riusciti. Però per noi è anche molto importante sapere di poter contare su un certo numero di medici che quando hanno questo genere di problemi chiamano l'associazione e ricevono le risposte e quindi poi c'è anche una simbiosi tra i medici dell'associazione e i medici che lavorano sul territorio. Direi che si può fare ancora di più, ancora meglio, per carità, però credo che se penso ai 20 anni passati si sia fatto, 21 anni passati si sia fatto molto. Ecco, i vostri obiettivi? I nostri obiettivi in questo periodo difficile per noi sono il pareggio di bilancio perché ovviamente in questi ultimi anni è molto più difficile raccogliere i fondi, la crisi purtroppo la sentiamo anche noi, anche se noi reagiamo pensando sempre alla faccia dei nostri malati o di chi ci richiede l'assistenza e quindi cerchiamo di trovare nuove energie per superare tutto ciò. Quindi cercare delle nuove risorse che non necessariamente siano economiche immediatamente ma che siano delle risorse in termini di volontari, di persone che vogliono bene l'associazione e che l'aiutino a crescere e ad andare avanti e a mettere su delle, così, di avere una maggiore stabilità. E questo ovviamente potrebbe generare un maggior numero di medici che lavorino, che possano lavorare per l'associazione e ovviamente cercare di eventualmente allargare l'esperienza, cioè andare così in province dove non siamo presenti in questo momento. Allo stesso modo abbiamo anche un obiettivo nazionale che è quello di dare, dal nostro punto di vista, le associazioni molto grandi, le associazioni nazionali che si occupano di curare i malati o di altro genere possono perdere un po' il rapporto con il territorio. Quindi pensiamo che il nostro obiettivo non è quello di mettere tante bandierine in tante regioni d'Italia o in provincia, ma è quello di dare il nostro know-how, come spesso ci succede, ci chiamano da varie regioni o province per dire ci date una mano ad organizzare un servizio come il vostro. Ecco, il nostro know-how noi lo vorremmo mettere a disposizione degli altri per far sì, perché il nostro obiettivo principale è che ogni malato di cancro possa avere a casa gratuitamente tutto ciò di cui ha bisogno e possa anche in un momento così difficile la nostra società dimostrare di essere così culturalmente e anche materialmente elevata da potergli garantire gratuitamente a casa uno standard di cura elevato. Allora, le volevo chiedere, leggendo, informandomi un po' su di voi, ho visto questo accento marcato che riguardava il passaggio tra l'ospedale, le cure domiciliari e anche il passaggio alle cure palliative. Voi l'avete definita una fase molto delicata, perché delicata? Perché delicata? Perché secondo noi parlare di cure palliative è un po' riduttivo rispetto a quello che è prendersi cura del malato. La differenza è molto sottile ma per noi è molto importante. Palliative vuol dire che il paziente ha un sintomo, noi controlliamo solo il suo sintomo. Noi abbiamo un obiettivo che è molto più ambizioso, molto più anche difficile da raggiungere, che è quello di prendersi in cura in toto del malato, cioè non solo del suo vomito, ma anche, un esempio banale, stupido, devo fare una consulenza, domani devo andare in ospedale, ho il problema di arrivarci, mi potete accompagnare, ho bisogno di fare questa consulenza, non so dove battere la testa, mi potete mandare a casa un medico che mi possa far questo? Ho un problema di altro genere che è anche legato alla mia patologia, ma ci vuole uno specialista, me lo potete portare a casa? Ecco, prendersi cura vuol dire questo, prendersi cura in toto della persona e del malato e se fosse possibile anche della famiglia, perché le situazioni familiari non sono tutte così idilliache. Purtroppo molto spesso il malato è un malato anziano, ha una moglie o un marito anziano, ha i figli che vivono lontano, ha i parenti che tutti i giorni devono andare a lavorare, perché la vita continua e devono andare a lavorare, quindi come si fa ad andare al mercato? Allora arriva un nostro volontario, che non è un professionista, che non è pagato da noi, che ti dà una mano per andare al mercato o passa un po' di tempo con te per far sì che la giornata sia meno greve, meno pesante. Certo, allora le volevo chiedere, a che punto siamo in Toscana nella cura dei tumori? Ora la domanda è universale, me ne rendo conto, ma il cancro è un qualcosa che nel malinario collettivo è comunque spaventoso, che toglie la speranza soltanto a pronunciare nella parola. In questi vent'anni ci sono state delle evoluzioni positive nella ricerca, nella cura, ci sono maggiori speranze di convivere o di vincere questa malattia? Allora in generale diciamo che la sopravvivenza è aumentata e questo grazie al fatto che si siano affinate le cure grazie al fatto che si sia affinata la diagnostica, quindi la possibilità di fare diagnosi precoce, che passa anche attraverso degli aspetti culturali molto importanti che sono appunto quelli di far sì che i medici o che gli operatori abbiano la capacità di intercettare, di capire prima quando è possibile eventuali patologie oncologiche per trattarle prima, questo genera ovviamente dei risultati completamente diversi rispetto a quando la malattia è stata avanzata. Sicuramente la Toscana negli ultimi anni ha fatto dei passi avanti molto importanti, sono stati fatti degli investimenti molto importanti sia da un punto di vista diagnostico che terapeutico. Quello che io come Presidente dell'Associazione di Volontariato che fa parte anche che lavora nel sistema sanitario toscano chiede ovviamente che tutto ciò possa ancora essere migliorato. Ecco ma i margini di miglioramento dove sono? Ma i margini di miglioramento sono nell'organizzazione secondo me, noi in generale come tipologia, come possibilità di prestazioni potenziali credo che non siamo secondi a nessuno, manchiamo nell'organizzazione, manchiamo negli ingranaggi, manchiamo nella capacità e lo dico da medico, di noi medici di collaborare tra di noi in maniera tale da non pensare di poter fornire da soli delle risposte per delle patologie così importanti. Noi possiamo soltanto unendo le nostre forze, le nostre capacità, avendo una maggiore umiltà, e lo dico prima di tutto a me stesso in questo momento, nei rapporti con gli altri medici possiamo migliorare quello che facciamo, cercando di fare dei passi indietro in maniera tale da avere una maggiore collaborazione. Ecco, una maggiore collaborazione secondo me, che non sia legata soltanto dai rapporti personali o di amicizia, è auspicabile, questo da un punto di vista umano, e anche poi nell'organizzazione, nella rete delle cure, che dovrebbe essere più integrata, senza pensare ai campanili, senza pensare a tanti lacci e lacciuoli che purtroppo ci sono, non possiamo far finta di non vederli perché ci sono, e cercare di superarli, pensando sempre che l'obiettivo è quello di curare i malati, fondamentalmente quello, primo e ultimo, è lo stesso che deve avere l'associazione, è lo stesso che si deve avere quando si fa questo mestiere, poi siamo tutti di carne e osso, ovviamente possiamo fare degli errori, però non dimenticarselo mai, almeno una volta al giorno ricordarsi qual è, perché noi siamo lì, perché vestiamo un camice bianco, perché andiamo a casa dei malati, perché dobbiamo curare loro, per curare loro dobbiamo essere in una condizione, noi, di tranquillità, di equilibrio, di diversa rispetto a quella, alla situazione nella quale andiamo, che quindi ha bisogno del nostro supporto, se noi già arriviamo a scarichi difficilmente possiamo dare la carica ai malati. Lei consiglierebbe a un giovane medico di intraprendere un'esperienza con voi? Lavorare con la TT? Io consiglierei, pensavo che la domanda fosse di essere per un giovane che desidera di fare medicina, guardi, io credo che un'esperienza come quella all'interno della nostra associazione sia un'esperienza di altissimo livello, sia culturale, perché hai una tua autonomia a casa del malato, sei solo, non sei come in ospedale, dove c'è il medico più anziano che ti può aiutare, o anche l'infermiera se ha difficoltà a trovare una pena, magari più bravo del medico alcune volte, e anche da un punto di vista umano. A me personalmente mi ha fatto molto crescere, cioè entrare in delle case, in delle situazioni dove tu puoi vedere un bambino molto piccolo che ha il padre o la madre che sta per morire di cancro e le dinamiche familiari penso che sia un esempio di grande maturazione, può generare una grande maturazione in te come medico e ne hai bisogno, perché abbiamo necessità noi medici di avere questo tipo di approccio, questo tipo di capacità, che non sia con altri valori ma con questi valori. Quindi io lo consiglierei, poi può decidere se farlo per tutta la vita o farlo per un periodo, però un periodo credo che possa essere formativo per tutti, sotto ogni profilo, sia tecnico-scientifico che soprattutto umano. Allora, e con questo concludiamo la trasmissione, la ringrazio, la ringrazio tanto di essere venuto con noi, voi avete visto durante la trasmissione che sono passati sia i contatti per mettersi appunto in contatto con l'Associazione Pumori Toscana che per fare una donazione se volete attraverso il 5x1000, quindi grazie ancora a Dottor Spinelli, grazie a voi per l'attenzione, buona serata a tutti voi.